In Sud we trust, ovvero fiducia oltre le crisi. E' questo il tema dell'edizione 2018 del premio Sele d'Oro Mezzogiorno, in programma ad Oliveto Citra dal 6 al 15 settembre. Anche quest'anno personalità di spicco del panorama politico, imprenditoriale e culturale italiano arricchiranno il programma della 34esima edizione del premio, dal presidente nazionale di Confindustria Vincenzo Boccia, al sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi, dal presidente Svimez Adriano Giannola al fondatore e direttore di Gifon Experience Claudio Gubitosi, per chiudere con lo scrittore Diego De Silva e il giornalista Antonello Caporale. Per finire, come ogni anno, a chiudere la manifestazione sarà il concerto in piazza Europa ad Oliveto Citra. Sul palco di Mediterranei salirà Ermal Meta. Un momento particolarmente difficile, se volete anche di disorientamento, abbiamo voluto riproporre un tema di fiducia, non per avere l'ambizione di dare risposte, ma per una voglia di ricerca alle domande che ci sono, a partire appunto dalle potenzialità del nostro mezzogiorno, ma io aggiungo a partire anche dalle cose buone che sono state fatte, perché ogni tanto siamo noi meridionali pronti anche un po' all'autoflagillazione. Ci sono cose buone, consapevole delle cose che non vanno e da qui dobbiamo partire dal mezzogiorno per il bene del mezzogiorno stesso, ma per l'intero paese. Ricordo a me stesso, ma a tutti quanti, che noi non siamo una manifestazione del mezzogiorno rancoroso, della divisione, di quanto ci hanno depredato, di quanto ci hanno tolto, ma siamo a mezzogiorno che guarda alla nazione intera, ma deve necessariamente guardare al Mediterraneo e all'Europa.